Cari amici di Mondo Balneare, anche quest'anno ci troviamo a Rimini per la Fiera San, arrivata alla trentesima edizione. Un'edizione difficile perché è boicottata dai sindacati di categoria che ha determinato anche una minore presenza delle aziende espositrici. Nonostante la scarsa affluenza di pubblico nei padiglioni dedicati all'arredamento da spiaggia, determinato dal blocco degli investimenti e dal boicottaggio deciso dai sindacati di categoria, le aziende fornitrici delle imprese balneari hanno dimostrato di avere voglia di ripartire, presentando nuovi prodotti particolarmente attenti alla tutela dell'ambiente. Presenti anche alcuni nuovi marchi nel campo dell'arredamento da esterni, che hanno offerto prodotti innovativi per una spiaggia più moderna, attrezzata e attenta al design italiano di qualità. Elevata l'attenzione per la tecnologia, con alcune aziende che hanno presentato sistemi rivoluzionari per una gestione centralizzata della spiaggia a favore del massimo comfort della propria clientela, che potrà ad esempio ordinare un drink direttamente dal proprio ombrellone. Ora i fornitori attendono che agli operatori balneari venga restituita la sicurezza normativa necessaria per ricominciare a investire. Infatti, finché lo spettro delle evidenze pubbliche degli stabilimenti balneari sarà ancora tangibile, gli imprenditori del settore faticheranno a trovare il coraggio di rimettersi in gioco. Viste le ormai note problematiche del settore balneare, sono stati molto seguiti i tre convegni organizzati dai sindacati che hanno deciso di non boicottare la fiera, ovvero Oasi Confartisanato, CNA Balneatori e ITB Italia. In tali incontri si è parlato dell'imminente colloquio con il ministro turismo Piero Gnudi, che finalmente presenterà la sua proposta di legge per regolamentare le concessioni da maniele marittime in relazione alla direttiva europea Volkestein.